Un altro colpo di scena nel bel mezzo della campagna elettorale per le presidenziali francesi il ministro dell'interno si è dovuto dimettere. Bruno Leroux è indagato per sospetto impiego fittizio come assistenti parlamentari delle due figlie, una quindicenne e l'altra sedicenne. Ecco come l'ormai ex responsabile di governo si è giustificato. I contratti ufficiali e saltuari sono conformi alle regole dell'Assemblea nazionale e corrispondono tutti evidentemente a degli incarichi effettivamente spletati. Questi momenti di lavoro in comune erano importanti per me ed erano una buona esperienza per loro. Viste le mie responsabilità e il poco tempo che ho, erano anche un'occasione per stare un po' insieme. Al posto di Leroux va l'ex sottosegretario al commercio estero, Matthias Fechel, di origini tedesche. Manterrà l'incarico poco meno di due mesi perché fra fine aprile e inizio maggio i francesi votano per le presidenziali.